Un incidente per Gianni Yaman Ciao a tutti ragazzi e ragazze, notizia veloce veloce che riguarda il nostro amato Gianni Yaman. Sembra che il nostro attore turco sia stato coinvolto in un piccolo incidente. Si tratta di un incidente di percorso avvenuto durante gli allenamenti per prepararsi al ruolo di Sandokan. Gianni Yaman si è ferito alla mano, si è slocato il polso e ha un riconfiamento alla mano. A renderlo noto è stato lo stesso attore che ha postato una foto su Instagram. Gianni Yaman è alle prese con allenamenti fisici abbastanza duri per la preparazione del ruolo di protagonista di Sandokan, serie che sarà prodotta dalla Luxvid. Auguriamogli una buona guarigione, io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!